Nella relazione annuale 2021 pubblicata dall'IRES Piemonte nella parte chiamata tra danni e resilienza analizza la situazione economica e la direzione in cui si muove la regione in questi anni caratterizzati dalla pandemia. In termini economici si può dire che l'impatto della pandemia in Piemonte nel 2020 è stato paragonabile per intensità a quello della crisi finanziaria del 2007-2008. pur distaccandosi totalmente per cause, effetti e prospettive future. Tra i settori industriali più colpiti si trovano ancora alcuni tra i più importanti della regione Piemonte, il tessile abbigliamento, l'automotive e la meccanica in generale mentre hanno tenuto il sistema agri-food e il chimico farmaceutico. Rispetto alla crisi del passato invece sono stati duramente colpiti dalle restrizioni pandemiche il commercio e il turismo a cui si aggiungono forti segnali di sofferenza di gran parte delle categorie del lavoro autonomo. Nella relazione illustrativa c'è anche scritto che quando nel 2020 è stata scritta l'introduzione di Piemonte economico e sociale si era a 100 giorni dall'inizio della pandemia. Si sperava fosse passata la fase di emergenza più dura e si vedeva la luce fuori dal tunnel. Purtroppo la luce era quella del treno pandemia che ci veniva di nuovo incontro e che ci ha costretti a una retromarcia brusca e difficile. Le aspettative basate su un eccesso di ottimismo, forse per sedare le nostre ansie o per scarsa consapevolezza, ci avevano tratti d'inganno. Dopo la prima sono arrivate la seconda e la terza ondata pandemica, gestite forse meglio di quella iniziale, ma comunque tali da aggravare notevolmente il bilancio delle vittime e dei danni. Oggi il consolidarsi della campagna vaccinale a 15 mesi dall'inizio della pandemia offre appigli più solidi alla speranza di chiudere questo percorso doloroso o perlomeno di entrare in una fase molto più agevole da gestire. Anche se alla fine i dati del rapporto economico e sociale dell'IRES chiariscono che il Piemonte comunque ha perso il 9,4% della PIL e che questa contrazione, come si diceva, è paragonabile soltanto a quella del 2007-2008.